In un'epoca segnata da regni tumultuati e figure notabili, emerge l'straordinaria storia di un uomo il cui nome risuona attraverso i secoli, Elia, il profeta coraggioso che sfidò Re e affrontò il proprio destino. Nato nelle terre di Galad, la sua vita si intreccia con gli eventi cruciali della storia di Israele, testimonianza di coraggio, miracoli e fede incrollabile. Nessuna parola è stata scritta esclusivamente su di lui, ma la sua presenza è incisa in capitoli significativi delle scritture bibliche, dal monte Carmelo al deserto di Cherit, al suo confronto con il re Achab e sua moglie Jezabel. In questo viaggio, sveleremo i dettagli affascinanti della vita del profeta Elia, un uomo soggetto alle stesse passioni che noi, ma la cui fede lo innalzò a livelli divini, preparati a immergerti in una narrazione epica, dove la linea tra il soprannaturale e l'umano si dissolve davanti alle straordinarie imprese di quest'uomo scelto da Dio. Elia, nato nelle terre di Galad, la storia lo dipinge come uno dei più grandi profeti di Israele, anche se nessuna parola è stata scritta esclusivamente in suo onore. La sua vita, tuttavia, è intrecciata con i tumultuati regni di Achab e suo figlio Acazia, due monarchi notevoli nella storia di Israele, e con il suo confronto con la moglie di Achab, Jezabele, una regina malvagia che perseguiterà il profeta minacciandolo di morte. Elia emerse come figura prominente nel nono secolo prima di Cristo, un periodo colmo di aspettative profetiche. La sua influenza fu così profonda che secoli dopo, i rappresentanti del popolo ebreo interrogarono Giovanni Battista sulla sua possibile identità. Cercavano di capire se Giovanni potesse essere Elia, un personaggio il cui ruolo era intrinsecamente legato al piano di Dio. Nel corso dei secoli, la rinascita profetizzata di Elia prima del grande giorno del Signore echeggiava nelle scritture, così come la sua presenza distintiva sul monte della trasfigurazione accanto a Mosè e al Signore stesso. In questo luogo sacro, discussero del sacrificio redentore che sarebbe venuto, come scritto in Malachia, capitolo 4, versetto 5, Ecco, io manderò a voi il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Tuttavia, nonostante la sua importanza spirituale, poco si sa sulla sua origine e la sua famiglia. La Bibbia ci dice solo che era di Galad, e quindi possiamo presumere che la sua storia abbia avuto inizio nella Transgiordania. Elia era un uomo di notevole vigore fisico, come dimostrato dalla sua incredibile corsa davanti al carro di Reakab, dal monte Carmelo all'ingresso di Gesril. Questo expluò mostrava la sua condizione fisica eccezionale, unita alla sua straordinaria carriera ricca di miracoli e imprese potenti. In un momento significativo, Elia si presentò davanti al Reakab in modo drammatico e inaspettato. Il messaggio che portò fu potente, non ci sarà né pioggia né rugiada in questi anni, tranne per mia parola. Così, il profeta affermò che il destino del regno era interamente legato alla parola che egli proferiva. Dopo questa previsione coraggiosa, Elia ricevette una direzione divina per nascondersi vicino al torrente Kerit, a est del Giordano. Lì, sperimentò la provvidenza soprannaturale, con i corvi che gli portavano pane e carne ogni mattina e sera. Il torrente di Kerit, la cui esatta posizione rimane avvolta nel mistero, si prosciugò sotto il decreto divino. Fu in questo momento critico che Elia ricevette una nuova istruzione dal cielo. Dirigersi verso il territorio di Sareb, nel cuore di Sidone, dove una vedova sarebbe stata incaricata di sostenerlo. Tra i molti bisognosi, la scelta accadde su una donna vedova. Elia non le chiese di preparare immediatamente un pasto, invece, fece una richiesta apparentemente insolita. Prepara prima un panino e poi fai qualcosa per te e per tuo figlio. Spiegò che, sotto la provvidenza divina, la farina e l'olio che lei possedeva non si passata. La storia ci porta ancora più avanti. Quando Elia arrivò a Sarebta, trovò questa vedova con scarsi rifornimenti di farina e olio sull'orlo della disperazione. Comprensibilmente, dubitava della richiesta iniziale del profeta, temendo che ciò avrebbe portato alla morte di suo figlio. Tuttavia, Elia chiese con fede che lei confidasse in lui. Le assicurò che Dio avrebbe provveduto abbondantemente, e la fede di questa donna permise che il miracolo accadesse. La farina e l'olio continuarono a fluire mentre la siccità devastava la terra, e il figlio della vedova fu risparmiato. La storia non finisce qui. In un momento di estrema angoscia, il figlio della vedova si ammalò gravemente, al punto di non riuscire più a respirare. Nel suo disperato stato, la madre lanciò accuse a Elia, chiedendogli se fosse venuto per ricordarle i suoi peccati e causare la morte di suo figlio. Elia, tuttavia, prese il ragazzo tra le braccia e lo portò in una stanza superiore dove alloggiava. Pregò intensamente il Signore, implorando che l'anima del bambino tornasse. Dopo tre ferventi suppliche, il Signore ascoltò la sua preghiera. Il bambino rivisse ed fu restituito tra le braccia di sua madre, pieno di vita. In un atto di riconoscimento dell'intervento divino, la donna esclamò a Elia, ora so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore è nella tua bocca. Questa storia illustra la profonda fede e la connessione diretta con Dio che Elia possedeva, oltre a dimostrare che Dio onora sempre la fiducia riposta in lui. La giornata di Elia era lontana dall'essere conclusa. Il culmine della sua storia lo portò sul Monte Carmelo, un luogo dove il destino di una nazione sarebbe stato sigillato. Questo epico confronto è registrato nel primo libro dei Re, capitolo 18. Dopo un periodo di tre anni, la parola del Signore venne nuovamente a Elia, istruendolo a presentarsi davanti ad Aqab, il re di Israele. Dio promise di inviare pioggia sulla terra arida. Elia, obbediente all'ordine divino, affrontò la missione. Nel frattempo, una grande carestia colpì Samaria, e Aqab chiamò Obadia, un uomo timorato di Dio che serviva nella sua casa. Obadia temeva profondamente il Signore, mentre Gezzabele perseguitava e uccideva i profeti del Signore. Agì coraggiosamente. Obadia nascose cento profeti in due caverne, fornendo loro il necessario. La situazione peggiorò ulteriormente, e Aqab e Obadia decisero di esplorare la terra in cerca di pascoli per mantenere in vita i loro animali, evitando la morte del bestia. Aqab andò in una direzione e Obadia in un'altra. Tuttavia, mentre Obadia era in viaggio, si trovò di fronte a un incontro sorprendente. Elia, il profeta temuto e cercato, gli si presentò davanti. Riconoscendo il messaggero di Dio, Obadia cade in ginocchio, riverendo e chiedendo se lui fosse il maestro Elia. Elia, rispondendo con calma, assicurò a Obadia che era lui e gli disse di riferire ad Aqab del suo incontro e che era lì. Tuttavia, Obadia espresse preoccupazione, temendo che facendolo, sarebbe stato ucciso. Spiegò che, durante la sua giovinezza, aveva temuto il Signore e aveva compiuto azioni per proteggere i profeti di Dio da Izebel, nascondendoli in una caverna e nutrendoli. Ora, era ansioso, temendo l'ira del re. Elia gli rispose, per la vita del Signore degli eserciti, alla presenza del quale io sto, mi presenterò personalmente davanti ad Aqab oggi stesso. E così la narrazione di Elia si sviluppa con una tensione crescente, preparando il terreno per la sfida epica sul Monte Carmelo, dove la fede, il coraggio e il potere di Dio sarebbero stati messi alla prova. In un confronto che avrebbe fatto storia, con determinazione incrollabile, Elia affrontò il re Aqab, che lo accusò di essere un disturbo in Israele. Elia, a sua volta, rispose con coraggio, accusando il re e la sua casa di aver abbandonato i comandamenti del Signore a favore degli idoli. Elia propose una sfida epica che avrebbe cambiato il corso della storia. Convocò Aqab a radunare tutto il popolo di Israele sul Monte Carmelo, inclusi i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Asera che si nutrivano al tavolo di Izebel, la regina spietata. La folla si riunì sulla montagna, aspettando ciò che stava per accadere. Elia, nel suo ruolo di profeta del Signore, si rivolse al popolo e chiese, fino a quando starete in dubbio su ciò che farete. Se il Signore è Dio, adorate il Signore, ma se Baal è Dio, adorate Baal. Le parole di Elia echeggiarono, ma il popolo rimase in silenzio, senza dare una risposta. Di fronte a questa esitazione, Elia delineò la sfida che avrebbe dimostrato chi fosse il vero Dio. Propose che due tori fossero scelti, uno per i profeti di Baal e uno per lui, il profeta del Signore. I tori sarebbero stati preparati su legna, ma senza fuoco. Quindi, ogni gruppo invocherebbe il nome del suo Dio, e il Dio che rispondesse con il fuoco sarebbe riconosciuto come Dio Supremo. Le persone accettarono la proposta, e Elia diede ai profeti di Baal l'opportunità di agire per prima. Scegliendo il toro, lo prepararono e dalla mattina fino a mezzogiorno invocarono il nome di Baal, o Baal, ascolta. Tuttavia, non ci fu risposta, nessuna voce, nessun segno divino. Elia, osservando la scena, non pote fare a meno di beffarsi. Provocò i profeti di Baal, suggerendo che forse il loro Dio era distratto in un viaggio o addirittura addormentato e aveva bisogno di essere svegliato. La disperazione dei profeti li portò a tagliarsi con coltelli e freelance, facendo scorrere il sangue nel loro rituale frenetico, ma ancora così, non ci fu risposta divina. Il giorno avanzò e la disperazione si diffuse tra i profeti di Baal, ma il silenzio persistette. Nessun Dio rispose alla loro chiamata. Elia, determinato a mostrare a tutti il potere del vero Dio, radunò il popolo intorno a sé. Innanzitutto, riparò l'altare del Signore, che era rotto e trascurato. Con dodici pietre rappresentanti le tribù di Israele, costruì un nuovo altare nel nome del Signore. Intorno all'altare scavò una trincea abbastanza grande da contenere e due misure di semi. Elia mise quindi la legna e il toro preparato sull'altare. Per intensificare la sfida, Elia ordinò che quattro brocche d'acqua fossero versate sull'olocausto e sulla legna. La gente obbedì e l'acqua scorreva intorno all'altare, riempiendo la trincea. Ripetè il processo tre volte, in modo che l'acqua saturasse completamente l'altare e la legna, rendendo impossibile l'accensione convenzionale. Era ora dell'offerta del sacrificio del pomeriggio, e Elia, con una fiducia incrollabile, si avvicinò all'altare, gridò, Signore Dio di Abramo, Isacco e Israele, che oggi sia noto che tu sei Dio in Israele e io sono tuo servo. Continuò con una preghiera fervente perché Dio manifestasse il suo potere, affinché il cuore del popolo si rivolgesse nuovamente a Lui. In risposta a questa preghiera fervente, avvenne un miracolo, un fuoco divino scese dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e persino l'acqua nella trincea. Fu un momento di rivelazione divina incontestabile. Di fronte a questo prodigio, il popolo che prima era esitante si prostrò in riverenza ed esclamò, Il Signore, Egli è Dio. Il Signore, Egli è Dio. La certezza e la fiducia in Dio furono ripristinate nei loro cuori. Elia, adempiendo al suo ruolo di profeta, ordinò che i profeti di Bal fossero catturati e nessuno di loro sfuggì. Successivamente, Elia istruì il re Acaba a prepararsi, poiché la pioggia era in arrivo. Il cielo si fece nero di nuvole, il vento si alzò e una forte pioggia cadde. Egli è Dio, adempiendo la promessa di Dio di inviare la tanto attesa pioggia sulla terra Aria. Mentre la pioggia iniziava a cadere, Elia, rivigorito dalla mano del Signore, si cinse i lombi e, con una determinazione soprannaturale, corse avanti ad Acab fino all'ingresso di Jezril. Fu un momento di trionfo e celebrazione della fedeltà del Dio di Israele, che rispose all'appello del suo servo e dimostrò il suo potere in modo magnifico. Dopo il miracolo sul Monte Carmelo e l'arrivo della pioggia, la notizia giunse a Jezabele, la regina malvagia e senza pietà, che si infuriò per ciò che Elia aveva fatto. Giurò vendetta contro di lui e inviò un messaggero con una minaccia di morte. Spaventato, Elia fuggì per salvare la sua vita. Lasciò il suo servo alle spalle e, da solo, intraprese un lungo viaggio nel deserto. Durante questo viaggio, raggiunse un punto di esaurimento e disperazione. Elia si sentì sopraffatto dalla paura e dalla stanchezza, al punto da desiderare la morte. Si sdraiò sotto un albero di ginestra e pregò, chiedendo a Dio di togliergli la vita. Mentre Elia dormiva sotto l'albero, un angelo del Signore lo toccò e gli portò cibo e acqua. L'angelo lo incoraggiò a mangiare e bere, poiché il viaggio che aveva davanti sarebbe stato lungo e impegnativo. Elia obbedì e, fortificato dal cibo divino, camminò per 40 giorni e 40 notti fino a raggiungere il Monte Oreb, la montagna di Dio. Nel frattempo, Jezabele continuava nella sua ricerca di vendetta, credendo erroneamente che Elia fosse morto sul Monte Oreb. Elia trovò una caverna e vi passò la notte. Dio lo interrogò sul motivo della sua presenza sulla montagna. Elia espresse il suo zelo per il Signore e la sua disperazione per lo stato spirituale di Israele, lamentando come il popolo avesse abbandonato l'alleanza del Signore, distrutto i suoi altari e ucciso i suoi profeti. Si considerava l'unico fedele al Signore, e ora la sua vita era in pericolo. Dio, nella sua infinita misericordia, scelse di rivelare la sua presenza a Elia in modo speciale. In primo luogo, ci fu un vento forte che spezzò le montagne, ma il Signore non era in esso. Poi, un terremoto scosse la terra, ma il Signore non era neanche in quello. Dopo venne un fuoco, ma Dio non era in esso nemmeno. Infine, arrivò una voce mite e delicata, e Elia seppe che era la voce del Signore. Ascoltando la voce di Dio, Elia coprì il viso con il suo mantello e uscì dalla caverna. Dio gli fece la stessa domanda, cosa stai facendo qui, Elia? E Elia ripetè il suo lamento e il suo zello per il Signore. Allora, Dio diede a Elia istruzioni chiare e importanti. Doveva tornare e ungere a Zael come re di Siria, Yehu come re di Israele e Eliseo come profeta al suo posto. Dio rivelò anche a Elia che aveva riservato 7.000 in Israele che non si erano inginocchiati davanti a Baal, dimostrando che non era solo nella sua fedeltà al Signore. Elia, ora rinnovato e rafforzato dalla comunione con Dio, era pronto a compiere la sua missione e a continuare a servire il Signore come suo profeta. Elia seguì prontamente le istruzioni divine e si mise in cerca di Eliseo. Trovò Eliseo che arava con 12 coppie di buoi. Elia gettò il suo mantello su Eliseo, simboleggiando la chiamata divina. Eliseo lasciò immediatamente gli animali e corse a chiedere il permesso di congedarsi dai suoi genitori prima di seguire Elia. Elia rispose che poteva farlo e poi seguirebbe lui. Eliseo dimostrò il suo impegno uccidendo gli animali e offrendo la loro carne al popolo come ultimo gesto prima di unirsi a Elia come suo servo. Era disposto a lasciare dietro di sé la sua vita precedente e a seguire la chiamata divina con determinazione. Intanto, a Damasco, il re Ben-Adad della Siria era malato. Invia Azael dal profeta Eliseo per chiedergli di consultare il Signore sulla sua guarigione. Azael portò un ricco dono e pose la domanda a Eliseo. Il profeta rispose che Dio gli aveva mostrato che Ben-Adad sarebbe morto. Tuttavia, Eliseo fissò intensamente Azael e cominciò a piangere. Azael, perplesso, chiese perché Eliseo stesse piangendo. Il profeta rispose che piangeva perché conosceva il male che Azael avrebbe inflitto ai figli di Israele. Predisse che Azael avrebbe incendiato le loro fortezze, ucciso i loro giovani con la spada, schiacciato i loro bambini e sbranato le loro donne incinte. Sorpreso da queste parole, Azael chiese come lui, un semplice servo, potesse compiere tali atti terribili. Eliseo rivelò quindi che il Signore gli aveva mostrato che Azael sarebbe diventato re della Siria. Azael tornò dal re Ben-Adad e, il giorno successivo, assassinò il re, assumendo il trono della Siria. Così, le parole di Dio cominciarono a compiersi. Con Eliseo che unge Azael come re e Yehu come re di Israele, mentre Eliseo si preparava a assumere il ruolo di profeta al posto di Elia. Questi eventi segnarono un cambio significativo nella storia di Israele e della Siria. Naboth, un ebreo di Jezril, possedeva una vigna vicino al palazzo di Aqab, re di Samaria. Aqab manifestò il desiderio di acquistare la vigna di Naboth, offrendo denaro o una vigna migliore in cambio. Tuttavia, Naboth rifiutò, citando che la vigna era un'eredità dei suoi genitori e non era disposto a venderla. Questo lasciò Aqab profondamente scontento e triste. Sua moglie, Jezabele, notando la tristezza di suo marito, tramò un piano per ottenere la vigna di Naboth. Scrisse lettere a nome di Aqab, le sigillò con il sigillo reale e le inviò agli anziani e ai nobili della città dove viveva Naboth. Nelle lettere, Jezabele ordinò che fosse proclamato un digiuno e che Naboth fosse posto in una posizione d'onore. Due uomini scillerati furono istruiti ad accusarlo di blasfemia contro Dio e il re. Naboth fu quindi lapidato a morte, seguendo le false accuse. Quando Jezabele informò Aqab che Naboth era morto, si alzò prontamente per prendere possesso della vigna. Tuttavia, il Signore inviò un messaggio a Elia, ordinandogli di confrontare Aqab nella vigna di Naboth. Elia si avvicinò ad Aqab e pronunciò una profezia annunciando la condanna divina sul re. Dio dichiarò che Aqab sarebbe stato punito per il suo ruolo nella morte di Naboth e per il suo coinvolgimento in pratiche malvagie. La discendenza di Aqab sarebbe stata sterminata, a causa della provocazione di Dio e dell'influenza di Jezabele. Inoltre, il Signore proclamò che i cani avrebbero mangiato Jezabele sui muri di Jezrele e gli uccelli del cielo avrebbero divorato chiunque morisse nei campi. Quando Aqab udì le parole di Elia, stracciò i suoi vestiti, si vestì di sac, digiunò e pianse. Il messaggio di Elia indicava la severa punizione che sarebbe caduta su Aqab e la sua casa a causa del peccato che avevano commesso contro Dio e il popolo di Israele. Dopo gli eventi legati alla vigna di Naboth, Aqab mostrò pentimento per il suo coinvolgimento nella morte di Naboth, e il Signore rinviò la punizione precedentemente annunciata da Elia. Durante tutta la sua vita, Elia fu un uomo di Dio, un profeta e un portavoce del vero Dio, testimoniando il potere dell'unico vero Dio. Successivamente, nelle scritture, Elia è menzionato in Malachia 4, versetto 5, dove si profetizza che tornerà prima del giorno del Signore, una profezia che trova adempimento sia nel Nuovo Testamento che nel futuro. Nel culmine epico di questa storia, il profeta Elia, la cui vita è stata assegnata da miracoli, coraggio e comunione diretta con Dio, si prepara al capitolo finale della sua avventura terrenica. Dio decise di portare Elia in cielo in un vortice, così Elia ed Eliseo partirono da Gilgal. Elia disse a Eliseo di rimanere a Betel, ma Eliseo insistette per seguirlo. A Betel, alcuni discepoli dei profeti dissero a Eliseo che Dio avrebbe portato via Elia quel giorno, e Eliseo confermò di esserne consapevole. In seguito, Elia disse a Eliseo di rimanere a Gerico, ma Eliseo rifiutò nuovamente di lasciar. A Gerico, i discepoli dei profeti ripeterono la profezia, e Eliseo rispose allo stesso modo. Elia chiese quindi a Eliseo di rimanere sul Giordano, ma Eliseo insistette nuovamente per seguirlo. 50 discepoli dei profeti osservavano da lontano mentre Elia divideva le acque del Giordano con il suo mantello, e entrambi passavano a piedi asciutti. Dopo questo viaggio, Elia offria a Eliseo l'opportunità di chiedere qualcosa prima di essere portato in cielo. Eliseo chiese una doppia porzione dello spirito di Elia, e Elia disse che gli sarebbe stato concesso se avesse visto Elia essere portato via. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco li separò, e Elia salì in cielo in un vortice. L'immagine di Elia che viene portato in cielo in mezzo alle fiamme divine divenne una scena indimenticabile, lasciando un'impronta duratura nelle menti dei 50 discepoli dei profeti che osservavano da lontano. Questa avventura, ricca di miracoli e simbolismi, non solo illustrò la vicinanza di Dio con i suoi eletti, ma delineò anche la transizione del potere profetico da Elia a Eliseo. Questo momento sacro rimase un punto di riferimento nella storia spirituale, riverberando attraverso le pagine del tempo come testimonianza dell'intervento divino nella vita di coloro che cercano diligentemente la presenza di Dio. Esplorando la vita del profeta Elia, siamo condotti in un viaggio ricco di miracoli, sfide e dimostrazioni del potere divino. La sua storia, sebbene è situata in un'epoca lontana, continua a risuonare nei cuori e nelle menti di molti fino ai giorni nostri. Elia personifica il coraggio di fronte alle avversità, la fede inabalabile e la capacità di essere un agente di cambiamento, anche in mezzo a un contesto tumultuato. La narrativa di Elia ci spinge a riflettere sulla nostra stessa avventura spirituale e su come affrontiamo le sfide della vita. Le sue esperienze rivelano l'importanza di una fiducia incondizionata in Dio, anche quando le circostanze sembrano sfavorevoli. Elia, uomo soggetto alle stesse passioni di noi, esemplifica che la preghiera fervente può muovere i cieli e scatenare interventi divini. Durante tutta la sua vita, Elia affrontò reempi, sfidò sistemi idolatrici e visse momenti di estrema prova. La sua storia ci ricorda che, nonostante le incertezze e le difficoltà, la fedeltà a Dio è ricompensata, e la sua sovranità prevale su tutte le circostanze. In questo punto, ti invito a condividere le tue riflessioni sulla vita del profeta Elia. Come queste storie bibliche hanno influenzato la tua fede e la tua visione del mondo, lascia i tuoi commenti qui sotto, poiché apprezziamo la tua prospettiva e desideriamo costruire una comunità di dialogo e riflessioni. Se non l'hai ancora fatto, considera l'opportunità di iscriverti al nostro canale per seguire ulteriori storie bibliche dettagliate e continuare questo viaggio di scoperte spirituali. Che le lezioni di Elia ci ispirino a essere agenti di cambiamento, saldi nella nostra fede, anche di fronte alle tempeste della vita. Che la narrazione del profeta Elia continui a echeggiare nei nostri cuori, ricordandoci la magnificenza del Dio a cui serviamo. Grazie per la tua attenzione.